Prendersi un po' in giro da solo fa molto bene per non montarsi la testa, per non darsi delle arie e per non credersi veramente un uomo superiore. Io mi diverto tanto a non credermi a un uomo superiore perché non lo sono, per parentesi, ma però se mi guardo in giro non ne vedo tanto. Il potere logora chi non ce l'ha, l'ironia era la sua cifra stilistica, le battute taglienti, il sale che metteva nel condire minestre altrimenti insapori in un periodo in cui la politica era molto più ingessata di oggi. Grazie.